E torna anche questo sabato la rubrica dedicata a piccole e medie imprese. Quest'oggi con il consulente Alessio Iovino abbiamo affrontato il cosiddetto bando Ismea, protagonista delle aziende agricole. Vediamo in che modo. È possibile presentare una richiesta proprio all'Ismea per poter accedere a un finanziamento con tasso agevolato, un tasso abbastanza basso che dà la possibilità alle imprese agricole, in particolare le imprese di capitali, di poter realizzare investimenti per o acquistare attrezzatura per la trasformazione di prodotti agricoli e quindi di realizzare un nuovo impianto, oppure qualora già effettuassero questo tipo di attività di rinnovare le attrezzature con macchinari nuovi che siano più aggiornati. Quindi parliamo, possiamo dire, di una sorta di mutuo di finanziamento, c'è proprio una spesa che deve affrontare l'azienda. Sì, si tratta proprio di un finanziamento mutuo che ha un piano di ammortamento di 15 anni massimo, di cui 5 di pre-ammortamento e 10 di ammortamento. Significa che i primi 5 anni l'azienda pagherà soltanto la quota interesse, che sarà una quota minima, dato che si tratta di un finanziamento a tasso zero. Il finanziamento inizierà a essere pagato a partire dalla sesta rata fino a chiusura del piano di ammortamento. Che termini utili abbiamo? Il termine utile per poter presentare la richiesta è il 20 maggio alle ore 12 di quest'anno. Gli investimenti potranno essere realizzati solo dopo la presentazione della domanda, qualora l'azienda avesse intenzione di realizzare già l'investimento. I progetti ammessibili devono ammontare al massimo a 20 milioni di euro e al minimo di 2 milioni di euro. Quindi parliamo proprio di investimenti molto grossi che possono mettere in moto un'economia abbastanza interessante.